In questa edizione del DNews, un tecnico italiano è stato rapito in Nigeria, si tratta di Francesco Rizzo, 55 anni. Lo ha confermato la Farnesina che ha già attivato tutti i canali per una soluzione positiva del caso. Oltre 100.000 articoli di merce contraffatte e pericolosa sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania a un imprenditore cinese che custodiva i prodotti in un magazzino. Il valore complessivo della merce è stimato in oltre 100.000 euro. Beni per quasi 51 milioni di euro sono stati sequestrati all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia e dai Carabinieri di Palermo e Trapani all'imprenditore in Iceta, molto noti nel settore dell'abbigliamento. No al declassamento dell'aeroporto di Catania. A dirlo sono esponenti politici, sindacali e dell'imprenditoria, riunitisi oggi a Palazzo degli Elefanti su invito del sindaco Etneo. Da Catania è partita la proposta di due mozioni da presentare a livello nazionale ed europeo. Dalla 9 al 14 dicembre sciopero degli autotrasportatori. Oggi si è riunita a Catania la conferenza interprovinciale di sicurezza alla presenza del sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Castiglione. Protesta degli ex lavoratori IPI da tre anni senza lavoro e abbandonati dalle istituzioni. Sette colonnine della sostare danneggiate e rapinate delle monetine. Il modus operandi sempre lo stesso. Le colonnine sono state fatte esplodere con materiale ad alto potenziale esplosivo. Interviene la sostare. CNA e le imprese. Catania che sostiene Catania. Catania deve ritornare a essere una provincia che progetta il futuro, che investe, che lavora e che produce. Per questo bisogna difendere e diffondere l'impresa ad ogni costo. Decine di migliaia di artigiani e piccoli imprenditori chiedono accesso al credito, tassi di interesse più bassi, puntualità dei pagamenti, meno tasse e una lotta contro l'abusivismo e per la legalità. Vogliono continuare a innovare, a investire sui giovani, ad andare in altri mercati e a crescere. Perché occorre combattere la crisi e battersi per una provincia migliore, non solo per sé, ma per quelli che verranno. Perché i loro sogni sono la nostra responsabilità. Per avere una rappresentanza più forte, servizi qualificati, assistenza e consulenza su credito e incentivi alle imprese, associati a CNA Catania, Piazza dei Martiri numero 8, e-mail info-cna-catania.it telefono 095 74 65 294 Un tecnico italiano è stato rapito in Nigeria. Si tratta di Francesco Rizzo, 55 anni, originario di Randazzo, in provincia di Catania. Lo ha confermato la Farnesina, che già ha attivato tutti i canali per una soluzione positiva del caso, su cui si chiede il massimo riservo. Il ministro degli esteri è in contatto con la famiglia del sequestrato. L'uomo è un dipendente dell'Agitto Costruzioni, una società edile italiana che ha un cantiere nel delta dell'Iger. Sarebbe stato rapito a scopo di riscatto. Stando alle prime informazioni, Rizzo lavorerebbe all'estero da circa 8 anni e sarebbe stato sequestrato mercoledì sera. Fino a pochi giorni fa avrebbe avuto contatti costanti con la sua famiglia, avvisata giovedì mattina dalla Farnesina. Massimo riservo per i familiari del geometra, 55enne. Nessun contatto con l'esterno, né da parte della moglie, né dei loro due figli. Un architetto e un ingegnere che vivono nel Pesetneo. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 100.000 articoli tra merce contraffatta e pericolosa nei confronti di un imprenditore cinese operante nell'Iterlanda della provincia Etnea. Nell'ambito dell'intensificazione dei controlli disposti nell'imminenza delle festività natalizie a tutela dei consumatori è stato individuato un magazzino gestito da un cittadino cinese dove erano detenuti prodotti contraffatti, privi dei minimali standard di sicurezza pronti per essere posti in commercio. Il successivo accesso nel deposito ha consentito di rinvenire a sequestrare oltre 100.000 articoli fra giocattoli e materiale elettrico tra cui addobbi e luci natalizie, recanti marchi contraffatti o privi della marcatura CE che immessi sul mercato avrebbero potuto costituire un serio rischio per la salute dei bambini e in generale dei consumatori. Il valore complessivo della merce sequestrata al commerciante orientale è stato stimato in oltre 100.000 euro. I giocattoli cautelati erano pericolose imitazioni di noti marchi largamente diffusi tra quelli destinati ai bambini, pistole giocattolo e automobiline in plastica composte da materiali scadenti, non sicuri e non certificati ma anche apparecchiature elettroniche di uso quotidiano di bassa qualità con prezzi di vendita notevolmente inferiori rispetto agli analoghi beni regolarmente certificati e prodotti o importati in Italia. Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria catanese per i reati di contraffazione e frode in commercio e segnalato alla locale Camera di Commercio per violazioni amministrative contenute nel Codice di tutela dei consumatori che prevedono sanzioni per oltre 100.000 euro. Un patrimonio comprendente complessi aziendali, attività commerciali, immobili di pregio e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro è stato sequestrato a una famiglia di imprenditori palermitani su provvedimento della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Le indagini del Rosso dei Carabinieri e dello Scico della Guardia di Finanza coordinati dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi e dal sostituto Pierangelo Padova hanno riguardato infiltrazioni di Cosa Nostra e dei suoi capi tra i quali il latitante Matteo Messina Denaro negli affari delle società appartenenti a un gruppo imprenditoriale che è leader da molti anni in Sicilia nel settore della vendita al dettaglio di articoli per abbigliamento di accessori e di preziosi che fa capo a un imprenditore e ai suoi familiari. Il gruppo, secondo l'accusa, sin dai primi anni Ottanta sarebbe stato in rapporti di contiguità con esponenti mafiosi di primo piano dell'ammandamento di Brancaccio e in particolare con i fratelli Giuseppe e Filippo Guttadauro quest'ultimo cognato di Matteo Messina Denaro con i quali avrebbe condiviso una serie di interessi economici in modo da garantirsi una forte espansione nel Palermitano e nel Trapanese. Alcune imprese create dal capostipite del gruppo imprenditoriale avrebbero nel tempo trasferito la proprietà e le cariche sociali a diversi soggetti ritenuti vicini ai boss. Tra i beni sequestrati figurano 11 società e relativi complessi aziendali con sede a Palermo e provincia operanti nella gestione immobiliare, la vendita di preziosi, l'intrattenimento e il commercio al dettaglio di abbigliamento, 12 fabbricati, 23 terreni, 16 automezzi, 5 quote societarie e disponibilità finanziarie. I due Guttadauro sono stati arrestati, Giuseppe nel 2002 e Filippo nel 2006 e in seguito condannati rispettivamente a 13 anni e 4 mesi e a 14 anni di reclusione, il primo come capo del clana di Brancaccio e il secondo come tramite tra Bernardo Provenzano e Messina Denaro, in particolare per le vicende legate al re della grande distribuzione, Giuseppe Grigoli, gestore di centri commerciali che secondo gli inquirenti sarebbero riconducibili al capo mafia latitante e che sono stati sequestrati tempo fa. L'aeroporto di Catania non merita il disinteresse dell'Europa. È assurdo che lo scalo Fontana Rossa infatti non sia stato inserito nell'elenco Core Network TNT, Trans-European Transport Network. Per questo motivo il sindaco di Catania ha invitato i vertici della SAC, il commissario della Camera di Commercio, i vertici della regione e tutta la deputazione siciliana per affrontare insieme la questione. L'aeroporto Fontana Rossa è il maggiore da Roma in giù per volume di traffico, serve sette province siciliane su nove ed è indispensabile per lo sviluppo della Sicilia. Il mancato inserimento di Fontana Rossa nell'elenco Core Network TNT rischia di pregiudicare il futuro del commercio, dell'industria innovativa e di qualità e ovviamente del turismo nell'intera regione. Su Catania invece bisogna investire a partire dalla costruzione di una pista più grande, dunque i fondi europei diventano necessari, da cui la proposta di dar vita a delle emozioni sia a livello regionale che nazionale. C'è un primo impegno concreto, una mozione unitaria che sarà presentata all'Assemblea regionale in cui sarà chiesto al governo di impegnarsi per mettere come primo punto all'ordine del giorno dei fondi comunitari del periodo 2014-2020 le risorse necessarie per la realizzazione della seconda pista e dell'interramento della linea ferroviaria. Catania si scommette per il suo aeroporto, che è l'aeroporto di sette province siciliane su nove e non posso immaginare che l'aeroporto di Palermo o quello di Napoli o quello di Genova, che sono molto meno importanti di quello di Catania, stiano in serie A e l'aeroporto di Catania stia in serie B. È inammissibile, dovremo risolvere la questione e oggi questa iniziativa, questa presenza, mi dà una grande forza. Una cosa è parlare come sindaco di Catania, una cosa è parlare insieme rappresentando tutta la deputazione regionale, nazionale e europea e facendo sentire la nostra voce anche il governo nazionale. Sulla stessa lunghezza donna anche l'amministratore delegato di Isac Gaetano Mancini. Questa decisione che è stata presa due anni fa e che riguarda tutte le infrastrutture sostanzialmente del polo di Catania, noi crediamo sia una decisione che vada contrastata con una forte azione e giusta in iniziativa che ha fatto oggi l'amministrazione comunale, il sindaco Bianco. Bisogna fare un'azione forte di difesa del territorio, ma soprattutto avendo la capacità di proporre una progettazione di sistema. Noi dobbiamo guardare a una logica di aria vasta che guardi tutte le interconnessioni fra le infrastrutture dal porto all'aeroporto, il porto di Augusta, l'aeroporto di Comiso, l'aeroporto di Catania, per sostenere a livello europeo che questo sistema infrastrutturale serve una popolazione importante, sostanzialmente il 70% della popolazione siciliana, oltre 3.300.000 abitanti. Crediamo che questo sia l'approccio giusto e su questo c'è bisogno di una fortissima attenzione di tutta la nostra classe dirigente. Dal 9 al 13 dicembre gli autotrasportatori e gli agricoltori incroceranno le braccia. Questo significa disagi per utenti e automobilisti. Per questo motivo si è svolta questa mattina una riunione della Conferenza Interprovinciale di Sicurezza con il Sottosegretario delle Politiche Agricole Giuseppe Cassiglione sui servizi di ordine pubblico per lo sciopero. Alla riunione hanno partecipato i prefetti e vertici delle forze dell'ordine delle cinque province della Sicilia orientale. Dal 9 allo sciopero degli autotrasportatori, la FITA CNA comunque non ha aderito perché si è trovato l'accordo con la Regione e tuttavia per questo sciopero altre categorie hanno deciso di farlo. Come si muoverà il Comitato per la Sicurezza e qual è la posizione del Governo? La posizione del Governo è una posizione molto chiara. Noi stiamo valutando attentamente le tante rivendicazioni. Molte risposte sono già intervenute nella legge di stabilità. Penso all'Imo Agricola, penso al contributo sul trasporto, ma penso a tante altre norme che sono state inserite e quindi però non vogliamo sottovalutare il fenomeno, vogliamo ascoltare e speriamo che possa rientrare tutto per aprire una stagione dell'ascolto, una stagione del dialogo e soprattutto poter affrontare quelle questioni che in via prioritaria, dicevo, all'interno della legge di stabilità ma anche su norme di settore abbiamo già affrontato e stiamo continuando a supportare le tante rivendicazioni che vengono oggi portate avanti. Quindi attenzione, ascolto, ma anche soluzione e risposte normative nel più breve e nel più rapido tempo possibile. Stamattina in Nagio nel Sole 24 ore sembra che aumentino i comuni che dovranno comunque far pagare l'Imu entro il 16 gennaio. Dall'altro lato il Governo vorrebbe scongiurare questa batosta per centinaia di migliaia di cittadini. Si troverà la soluzione, si troverà la copertura di 380 milioni di euro? Io penso che la soluzione la stiamo adottando e la stiamo trovando, però bisogna dire che comunque non si è pagata la prima rata, non si paga la seconda rata, stanno pagando allo stato attuale, all'attuale previsione normativa pagheranno solamente i comuni che hanno aumentato la liquida. Quindi mettiamo prima la notizia positiva che chi è titolare di prima casa non pagherà nemmeno la seconda rata. Per il resto stiamo trovando le soluzioni possibili all'interno delle risorse finanziarie disponibili. Stanotte l'occupazione dell'autoparco, oggi qui davanti al Comune. Siete gli ex lavoratori dell'IPI che vi sentite presi in giro dall'amministrazione perché non mi dà la giusta attenzione che merita comunque un cittadino che merita un lavoratore. Voi siete in esubero nell'azienda perché finendo il porta a porta per quanto riguarda la raccolta differenza dall'azienda non aveva come collocarvi. Tra l'altro nei giorni scorsi il Comune ha firmato un accordo proprio con l'IPI per assumere del personale ma si è trattato del personale ex cesame quindi anche in questo caso non siete stati tenuti in debita considerazione. Da qui appunto la protesta di stanotte, il presidio stamattina chiedendo magari che l'amministrazione intervenga. Sì esattamente. Tengo a sottolineare che ci sono anche i ragazzi dell'ex consorzio Solco non solo quelli della IPI. Siamo qui in attesa di essere ricevuti dal sindaco o dal suo vice che nei giorni scorsi ci avevano promesso un incontro ma tutt'oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Forse oggi speriamo di ottenere questo incontro. Sono passati tre anni, tre anni di silenzio. Sì esattamente. Anche se noi abbiamo seguito un percorso istituzionale che però non ha portato ai frutti che speravamo tutti. Qualcuno ha avuto un contratto quest'estate di un paio di mesi per sostituire dei lavoratori in ferie. Anche lì una scelta arbitraria da parte dell'azienda ma comunque nulla di concreto che vi possa permettere di andare avanti. No esattamente. Soltanto 20 di noi hanno lavorato per due mesi quest'anno ma ancora altri 25 sono in attesa di essere chiamati anche soltanto per due, tre mesi. Quello che noi cerchiamo è la stabilizzazione. Il servizio del porta a porta potrebbe essere il servizio che potrebbe dare da lavoro a tutti. Quindi crediamo che l'amministrazione ci riservi la giusta attenzione. Sette colonnine della sostare sono state fatte esplodere nei giorni scorsi o meglio nelle notti scorse ai fini vandalici ma anche per rubare le monetine che dentro vi sono contenute. Un danno non indifferente ovviamente per la sostare ma anche pericoloso il gesto compiuto da questi sciacalli perché se qualcuno passava vicino a queste colonnine rischiava anche la vita perché comunque alto il materiale esplosivo utilizzato è molto pericoloso. La sostare come si sta muovendo? Sì, appunto come diceva lei il fatto inquietante e nuovo di questa tipologia tra virgolette di attentati alle nostre colonnine sta proprio in questo. L'anno scorso, un anno e mezzo fa circa, avevamo assistito ad altri episodi volti a prelevare il denaro che c'era nelle colonnine attraverso il sistema dell'autariete. Adesso invece questo sistema appunto si è affinato addirittura con l'utilizzo di esplosivo tra l'altro con delle cariche non indifferenti e tali da poter scardinare queste colonnine in acciaio che tra l'altro sono realizzate con un acciaio resistente e quindi non facilmente danneggiabile con esplosivi di piccola carica. Sostare già dopo il primo episodio si è attrezzata tramite delle ronde notturne attraverso dei dipendenti che stanno per quello che è possibile monitorando alcune zone della città allo scopo di quando meno disincentivare altre manifestazioni del genere. È chiaro che sostare da sola non può riuscire ad agginare questa tipologia di atti e quindi chiediamo così come abbiamo fatto attraverso la stampa l'intervento delle istituzioni e delle forze di pubblica sicurezza per poter nei limiti del possibile pattugliare le zone più a rischio della città in cui sono installate le colonnine soprattutto per evitare danni alle macchine posteggiate è successo già in uno di questi episodi alcune macchine posteggiate hanno subito dei danni nonché naturalmente per l'incomunità pubblica perché è chiaro che se dovesse passare qualche pedone in quel frangente al di là del danno al parcometro sono i danni che possono essere arrecati alle persone. Si è svolta questa mattina la presenza del direttore marittimo della Sicilia orientale il contrammiraglio Domenico De Michele il comandante militare marittimo autonomo in Sicilia contrammiraglio Roberto Camerini con le massime autorità civili e militari la cerimonia di passaggio di consegne tra il capitano di vascello Patrizio Zumbo e il subentrante capitano di vascello Alfio Di Stefano una cerimonia come avete visto molto semplice molto scarna senza fronzoli però che porta con sé molti significati intanto nel passaggio del testimone fra due colleghi che si alternano al comando di un ente e poi l'evento in qualche modo come avete visto coinvolge nell'intimo soprattutto il comandante cedente consapevole di chiudere un arco della sua vita professionale lasciando quell'organizzazione che ha curata ed è chi come me lo ha fatto parecchie volte purtroppo nella sua ormai lunga carriera sa perfettamente che è come lasciare una parte di sé nelle mani di un altro collega il capitano di vascello Zumbo Catanese laureato in giurisprudenza nel 1985 dopo aver frequentato l'Accademia Navale ha svolto numerosi incarichi come caposezione nelle sedi delle capitenerie di Augusta Messina e Catania allo Stato Maggiore Marina Reparto Personale di Roma caporeparto tecnico amministrativo del compartimento marittimo di Catania e dalla direzione marittima di Catania dove ha ricoperto l'incarico di comandante della capiteneria di Porto nel 1991 ha partecipato all'operazione Pellicano in Acqua Albanesi ha comandato il circondario marittimo di Porticello e il compartimento marittimo di Mazzarra del Vallo lascia il comando della base per assumere l'incarico di capo ufficio direzione marittima e caposezione gestione del personale della direzione marittima della Sicilia orientale certamente un bilancio positivo da un punto di vista di enricchimento professionale ho imparato tanto era un mondo che non conoscevo e poi soprattutto il rapporto con il personale come ho avuto modo di dire sono tutti ragazzi eccezionalmente motivati professionalmente validissimi che hanno affrontato sempre con un grande spirito di sacrificio e benegazione gli impegni che ci sono stati posti davanti andrò a assumere l'incarico presso la direzione marittima di Catania che è un ufficio di coordinamento di tutti i comandi dipendenti dall'ammiraglio il capo di vascello di Stefano catanese proveniente dalla direzione marittima di Catania dove ha ricoperto l'incarico di caporeparto operativo laureato in scienze geologiche nel 1984 dopo aver frequentato l'accademia navale e aver effettuato periodi di imbarco su unità navali della Marina e del Corpo delle Capitinerie di Porto ha svolto numerosi incarichi come caposezione e caposervizio nelle sedi delle Capitinerie di Vibo Valencia Marina, Palermo e Catania ha frequentato dei corsi di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione Portostat Control e un corso di gestione aziendale e tecnica dei trasporti Il mio obiettivo è quello di mantenere e di migliorare gli standard qualitativi e l'efficienza dei mezzi aerei questo momento particolare lo sappiamo è un momento particolare per le vicissitudini che ci sono nel Mediterraneo le conosciamo l'immigrazione sono in prima linea tutti gli uomini della base aeromobile in questo senso grazie a tutti